Ciao, benvenuti a Cazzeggio Catabiotico Ciao, benvenuti a un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotico In questo episodio discuteremo rapidamente intorno alla eventualità di una seconda guerra civile negli USA È un tema di fantapolitica misto a distopia ed un eventuale evento geopolitico In questo podcast cercheremo di capire se questa fantomatica ipotesi possa essere reale o meno Se c'è uno spazio-tempo entro il 2050 in cui questa ipotesi possa essere credibile Oppure se è un'eventualità teorica improbabile spostata forse nel XXII secolo o chissà se mai ci sarà Andiamo con ordine C'è un attrattore caotico guerra fondaio in Nord America? Storicamente si direbbe di no La guerra civile americana è un pattern storico? Sì, lo è nel continente americano Guerra civile americana del Tardo 800 Rivoluzione castrista E vari tentativi di portare la rivoluzione comunista in Sud America Facendo leva sulle richieste democratiche sudamericane Che durante la guerra fredda furono tutte bloccate dalla CIA Con una politica neonazista e dittatoriale Si ricordi il fatto che nell'operazione Paperclip molti nazistoni furono trasferiti in Brasile Ed i nipotini dei nazi sicuramente ancora oggi stanno in Brasile Tuttavia il pattern della guerra civile nel continente americano non trova in modo storico e fattuale Una ripetizione ed una frequenza alta Come il pattern delle guerre puniche nel Mediterraneo Vi invito a fruire il podcast sul pattern storico che trovate linkato in descrizione di questo file Quanto il podcast sugli attrattori caotici guerra fondaici Storicamente quindi il pattern della rivoluzione nel continente americano ha un'esistenza debole Non ci sono attrattori caotici guerra fondaici nel continente americano A chi è venuto in mente di pensare che potesse detonare di nuovo una guerra civile in USA? Nel 1997 l'idea venne in mente a dire di Wikipedia ad alcuni registri americani Che produssero The Second Civil War Un film commedia e satirico prodotto dalla HBO L'idea di una seconda guerra civile in USA venne probabilmente per clonatura dal film della HBO E che appena l'anno dopo nel 1998 un rosicone ex soviatico A dire di Wikipedia lo scienziato sociale Panarin ebbe a predire che nel 2010 sarebbe scoppiata una seconda guerra civile in USA Ecco non si capisce bene su che basi di vodka o su che basi logiche e perché proprio nel 2010 Però ecco forse si può immaginare che poiché ad esempio in USA nel 2018 c'erano 395 mili persone Con 334 milioni di armi da fuoco registrate in USA Ed un numero imprecisato di armi da fuoco non registrate in USA Con una media di circa 0,84 armi da fuoco inclusi neonati Beh forse può avere un qualche senso per un ex sovietico rosicone Immaginare che in USA gli statunitensi avrebbero preso spararsi a dorso per qualche ragione Non si capisce perché la cosa avrebbe dovuto accadere proprio nel 2010 Comunque poiché in USA tutti sono pieni di armi leggere ed aspettano un attacco apache Inclusi i nativi americani pieni di armi Ecco la larghissima diffusione di armi leggere è sicuramente un elemento di grande violenza in USA Almeno agli occhi di un europeo Comunque la teoria della vodka di Panarin sulla seconda guerra civile è stata smentita dalla storia nel 2010 Non ci fu nessuna seconda guerra civile americana negli USA Hollywood sempre attenta a produrre grandi film d'azione e pieni zeppi di effetti speciali catastrofici Di recente ha sfornato un film proprio sul tema della seconda guerra civile americana Il film del 2024 è un thriller distopico costato 50 milioni di dollari Per dire di Wikipedia ne ha già incassati 122 milioni di dollari nel 2024 Quanto ha senso immaginare la possibilità di una seconda guerra civile in USA? Questa eventualità a mio avviso muta drasticamente dalla improbabilità del vapore di le vodka Muta invece non ha qualche consistenza se si introduce un pezzo di storia Da quello che è accaduto dal 2020, 2021, 2022 e 2023 Un pezzo di storia che non è mai stata raccontata da MySmedia occidentale La strategia della rigenerazione di Soros I morti americani nella prima guerra mondiale a dire di Wikipedia furono 116.516 I morti americani nella seconda guerra mondiale a dire di Wikipedia furono più di 400.000 I morti americani nella guerra di Corea furono 33.739 I morti americani nella guerra del Vietnam furono 58.220 I morti di Covid-19 furono 1.2 milioni di persone solo negli Stati Uniti d'America Ecco Soros e i suoi amici di merende hanno ammazzato più americani con il Covid-19 I quanti americani morirono per rimuovere il satanico Hitler nella seconda guerra mondiale I miei fratelli americani hanno un grosso problema C'hanno una grossa serpe di Satana e la riedizione della strategia di rigenerazione di Soros Ad esempio, immaginando un virus programmato geneticamente per infettare contemporaneamente uomini più animali Quelli dell'allevamento causerebbe un collasso nel settore primario Creando il bisogno di usare le licenze dei reattori di Soros Su carne, pesce, verdura, frutta, frumenti sintetici Fantapolitica? Boh, non direi proprio Sono sicuro che il tema della strategia di rigenerazione di Soros Lo leggeranno praticamente i posteri sui futuri libri di storia tra 75 e 100 anni Quando si parlerà dei primi decenni di XXI secolo Ma al momento i masmidi occidentali fingono di non sapere I masmidi occidentali fingono di non aver visto I masmidi occidentali fingono di non aver udito Se venisse fuori che Soros e i suoi amici di Merenda e Theodem Hanno applicato la strategia di rigenerazione di Soros In un paese con larghissima diffusione di armi da fuoco Ecco, io non penso che scoprirebbe una guerra civile Perché in Nord America c'è una larga cultura protestante E' la pratica politica comune di usare un capo espiatorio Per dare tutta la colpa della faccenda ad una persona Oppure per dare la colpa a poche persone In modo da chiudere la faccenda Sarebbe quindi politicamente conveniente Per il sistema politico americano Incolpare Soros e pochissimi altri Chiudendo la faccenda Facendo così anche autocritica Al verso il mondo Ed offrendo il colpevole Su un piatto d'argento Ma ormai le guerre batteriologiche Nel ventunesimo secolo sarebbero state sdoganate Secondo voi Chi negli Stati Uniti ha interesse A far disonare un nuovo Guerra batteriologica Dopo l'attacco con SARS-CoV-2? H-0 Il complesso militare industriale americano Con i repubblicani per applicare il pivot in China H-1 La finanza di Soros Le assicurazioni Le aziende farmaceutiche Con i produttori di armi leggere Con i democratici H-2 Entrambi H-3 Nessuno dei due Mia personale opinione è che La strategia di rigenerazione di Soros Dimostra che H-1 È vera H-1 Impatti nell'economia USA Con sistemi sanitari privati E business assicurativi Impatti di una guerra batteriologica H-1 Punto 1 La morte precoce dell'assicurato Permette di incamerare i montanti accumulati Con i premi Che non verranno mai trasformati In spese mediche future Ma in profitti nell'anno della pandemia È vero che Una epidemia fa alzare i pagamenti Per servizi sanitari Da assicurazioni all'ospedale Ma una pandemia Manda in saturazione I sistemi sanitari E il grosso degli assicurati crepa Per mancato accesso alle cure mediche E sborsi assicurativi Che si trasformano in profitti Per aziende sanitarie private Aziende sanitarie private spesso Che fanno anche parte Dei gruppi A livello di infragruppo Dei gruppi assicurativi Oltre al business dei vaccini E delle aziende Nel settore farmaceutico E dei servizi sanitari L'auti profitti Anche per la previdenza privata Che per morte del pensionato E del conuge anziano vecchio È poi possibile incamerare I montanti non liquidati In pensioni future Mutandoli quindi in profitti La restrizione di movimento Permettono di effettuare Una ristrutturazione del capitale Per morte delle aziende Piccole e marginali Che non possono sopravvivere Ai lockdown Impatti positivi Anche per la costruzione Di armi leggere E munizioni Per sostenere guerre regionali Per attaccare la SCSI E smembrarla Al fine di sventolare Un nemico esterno Un nemico esterno Dell'occidente E lasciare La sindrome di Stoccolman Andotta dai mass media Faccia il resto E il proprio lavoro Nelle società occidentali Cancellando Ogni ricordo Dell'epidemia Con una Fantomatica Minaccia esterna Mentre nei sistemi Economici europei Dove c'è il welfare state Finanziato dal bilancio pubblico H1A Ecco il Covid-19 Come un forno prematorio Ambulante Ha permesso La decurtazione I costi prospettici Di pensione e sanità Perché in pandemia Il servizio sanitario In blocco Non cura più nessuno H1B Le restruzioni di movimento Permettono di effettuare Una ristrutturazione Del capitale Per morte Delle aziende Piccole e marginali Che non possono Sopravvivere Ai lockdown Ecco In entrambe L'economia occidentale Si è avuto Una demitalizzazione Della curva demografica E per i beoti Che pensano Che esista Una crescita infinita In un pianeta Di dimensioni infinite Si immagina Che esista Spazio economico Potenziale Per importare Immigrati clandestini A guidare Ius soli O Ius cole Se è vero H1 Allora Sicuramente Falsa H3 Che dire Di H0 Ecco H0 Il complesso Militare Industriale USA Ed il pentagono Sono contrari A mio avviso Alle guerre Batteriologiche Perché Se è possibile Annichilire Un nemico esterno Con un virus Causando Una potente epidemia Oppure Una pandemia E poi Tranne perfino Profitto Addirittura Negli Stati Uniti Vedi H1 Ecco allora Agli Stati Uniti D'America Bastano un piccolo Dispositivo militare Allora Non c'è più bisogno Degli appalti Faraonici Da dare Alla difesa Per potenziare Il potere Aereo navale E giusnavi Aggiornare Il potere Aereo Dell'USA Rinvigorire Imarinza Di scapito Di usarmi Ed aggiornare L'arsenale nucleare Strategico Di USA Per il pivoting China Dato che Con pochi miliardi Di dollari Di dollari È possibile Costruire Un arsenale Di virus Batterologici Con cui Scatonare Punto Guerre Batterologiche Per distruggere Tutti i nemici Esterni Degli USA Permettendo Di far guadagnare Anche Addirittura L'economia USA E fregandone Se Dei morti Nordamericani Quindi a mio avviso I repubblicani Il complesso Unitario Industriale È a mio avviso Sicuramente Contrario All'uso Di virus E all'uso Di guerre Batterologiche Perché verrebbe Meno L'utilità Dell'arsenale Degli USA E degli appalti Faronici Del pentagono Che peraltro Hanno Anche Grossi Impatti Economici In termini Di occupati E produzione Industriale E poi Anche Come ricaduta Aggiuntiva Sui consumi E appunto Dei consumatori Americani Quindi È la mia Modesta Opinione Che La vera Questa sia La vera Situazione Politico Strategica Nel breve Periodo In questo Momento Puntuale Al 2024 C'è Però Ahimè Una brutta Notizia Nel medio Lungo Periodo E vera La H Con 2 Perché I paesi Del secondo Mondo Hanno Imparato Gli impatti Di un'epidemia Eppure I paesi Del secondo Mondo Hanno Intuitato La tecnologia mRNA E la Programmazione Genetica Dei virus Perché In un Collasso Di Panetta Terra È un Gioco Di Tutti Contro Tutti Dove I rapporti Internazionali Sono giochi a somma Zero La morte Di uno Stato Per la Sopravvivenza Di un Auto La Riedizione Potrebbe causare Una guerra Civile Musa Secondo me È possibile Che con la Reiterazione Della Strategia Della Rigenerazione Di Soros Cresca La probabilità Di una Guerra Civile In USA A causa Della Lerga Diffusione Di armi Leggera In Stati Uniti Ed A causa Dell'ampia Libertà Di Opinione Che esiste Nell'infosfera Inglese Dato che Questa È composta Da persone Eterogenee Presenti In tantissimi Paesi Fuori Dal Nord America Si Penso La Gran Bretagna All'India Ed Anche Ad altri 20 Paesi Che Nel Mondo Parlano Inglese Per un Totale Complessivo Stimato Di Oltre 1.5 Miliardi Di Persone Che Parlano Inglese Sulla Terra Una Infosfera Quella Inglese Molto Eterogenea Con 24 Paesi Tutti Diversi Con 1.5 Miliardi Di Persone Oltre 1.5 Miliardi Di Persone Una Infosfera Inglese Difficile Da Controllare Con I Motori Di Cerca E Con Le IA Creando Fake News Per Controllare La Narrazione Un Infosfera Inglese Che È Molto Diversa Dall' Infosfera Cinese Che Ha Praticamente Una Lingua Molto Difficile Perché Cinese È De Fatto Parlato Solo Dai Cinesi Una Infosfera Inglese Che È In Comune Con L'Infosfera Dell'India In cui Si Parla Inglese Come Negli Altri 23 Paesi Che Condividono La Stessa Infosfera Inglese Una Infosfera Inglese Che È Diversa Dall'infosfera Russa In cui Si Parla Il Russo Praticamente Quasi Solo Nella CSI Ossia Lungo I vecchi Confini Di Quello Che Una Volta Era L'URSS Quindi In Sintesi A mio Avviso Sarà Vero Che Nella Strategia Di Rigenerazione Di Soros Troveremo Ampia Documentazione Nei libri Di Storia Futuri Fra 75 Anni O 100 Anni Quando Si Parlerà Dei Quimi Decenni Di XXI Secolo Forse Il Complotto Della Strategia Di Rigenerazione Di Soros Sarà Mantenuto Sino Al 2050 Con I Massimili Occidentali Che Fingeranno D'essere Ciechi Sordomuti A riguardo Dopotutto Del Complotto Che Uccise Il Presidente Kennedy Ancora Non Si Sa Niente E Si Racconta Che Fu Solo Lee Oswald A Sparare All'illuminato Presidente Americano Ben Voluto Da Tutti Nel Mundo Però E Anche Vero Che Lee Oswald E Un Facile Capo Ispiatorio Per Mettere Una Pietra Tombale Sulla Faccenda E Si Potrebbe Fare Analogamente Sulla Faccenda Della Strategia Di Rigenerazione Di Soros La Stessa Cosa Fatto Che Nel Breve Medio Periodo Sarà Molto Difficile Per L'USA Trovare Nuovi Alleati Per Contenere La Scina Dopo Il Disastro Creato Dai Teodem Con La Strategia Della Rigenerazione Di Soros Ahimè La Replicazione Della Strategia Di Rigenerazione Di Soros E' Altamente Probabile Nel XXI Secolo Che Le Guerre Batteriologiche Sono Facili E Costano Poco Producono Grande Impatto E La Tecnologia Della Programmazione Genetica Di Virus E Batteri Ed Vaccini mRNA Anche Vaccini Anche Virus Sintetici E' Una Tecnologia A Disposizione Sia Del Quindi A me A mio avviso Di Guerre Batteriologiche Nel XXI Secolo Ne Vedremo Reiterarsi Tante Vi invito A Fruire Il Podcast Come Potrebbe Essere La Ripetizione Della Strategia Di Rigenerazione Di Soros Link Della Playlist Lo Trovate In Descrizione Sì Al Crescere Della Ripetizione Della Strategia Della Rigenerazione Di Soros E' A mio Avviso Possibile Ma Non So Dire Quanto Che Possa Detonare Una Seconda Guerra Civile In USA Dato Che L'intelligenza Artificiale E I Motori Ricerca Sono Utili Strumenti Più Potenti Di Linee Editoriali Omogenee E Coeve Nei Mass Media Per Il Controllo Della Narrazione Nell'Infosfera Inglese Per Questa Puntata E' Un Po' Tutto Un Saluto Ciao Alla Prossima T T